Come si legge dalle nostre divise vita, vivere intensamente tutto amando. Trattiamo i nostri prodotti con passione, amore e la massima professionalità ed esperienza che ci accompagnano ormai da più di 27 anni nel settore dell'ospitalità. Abbiamo scelto di lavorare con aziende leader del settore come Caffè Moreno che è il nostro obietto da visita, Nutty Food che ci fornisce cioccolata calda, orzo, ginseng, crema caffè, tè e tisane della Vilmac in filtro seta, Allegrini che è una delle cantine vinicole più prestigiosa e premiate d'Italia con la presenza di oltre 11 etichette. Uno dei punti di forza cominciando dal mattino è in assoluto la nostra colazione dai sapori biologici con 8 tipi di confetture rigorosamente bio per farcire brioche vegane, multicereali, camut e farro, integrali e anche normali. Il nostro caffè viene accompagnato da un bicchierino di acqua aromatizzata all'anice stellato che produciamo noi distillando al momento in acqua naturale senza alcol. Parlando di food abbiamo pensato oltre alla colazione al mondo del wellness proponendo piatti a base di pane di segale, freschissime insalate, yogurt alla frutta prettamente bio, bibite all'aloe vera ed estratti di frutta fresca, spremute di melograno, smoothies composti da solo frutta e ghiaccio. Una delle nostre vere chicche sono i panini, ormai rinomati dalle molteplici farciture, alcuni a base di induia, un salame tipico calabrese famoso in tutto il mondo. Per non parlare poi dell'hamburger, così buono da sconsigliarlo per non cedere alla sua dipendenza. Un prodotto a cui teniamo molto è la pizza pala, non una semplice pizza ma l'originale scrocchiarella romana, farcita in dieci gusti diversi. In più non mancano le bruschette, le piadine e la piadipizza, preparate sempre con cura e con prodotti di qualità. L'idea di dedicare il nome del locale a Gabriele D'Annunzio viene non solo dal fatto che per noi questo mestiere è passione e dedizione, come nella sua scrittura, nei suoi romanzi, anche perché D'Annunzio diede il nome a molteplici distillati e liquori con i quali noi abbiamo creato dei fantastici cocktail. Sosteniamo da anni che alla base della conoscenza ci sia dedizione, passione e amore per il proprio mestiere. È per questo che soddisfare i desideri dei nostri clienti è la nostra passione e la gratificazione è il nostro miglior premio. Grazie. 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 Grazie.